Milioni di italiani bloccati in autostrada con cantieri infiniti. Un milione di italiani bloccati perché non hanno ancora visto la cassa integrazione e non hanno trovato i soldi promessi in banca. E nonostante questo il governo a cosa pensa? A rinnovare lo stato di emergenza allungandolo fino a fine anno. No, c'è bisogno di lavoro, di libertà, di salute e di sicurezza. Anche perché gli unici liberi di fare e disfare in Italia in questo momento sono i clandestini che continuano a sbarcare. Ora più che mai per la Lega vengono prima gli italiani.